Alcuni dei migliori DJ messi in essi degli ultimi vent'anni si sono uniti ieri per una serata speciale. L'obiettivo era ricordare Giacomo Cuffari, DJ scomparso in un incidente stradale, e sensibilizzare i più giovani alla donazione degli ordini. In beneficenza l'incasso. Il messaggio è arrivato. Penso proprio di diventarlo, ecco. Insomma, non so se in Italia o meno, perché non so quale sarà il mio futuro, appunto. Però sicuramente sì, mi farebbe piacere, anche perché che te ne fai degli organi quando sei morto, insomma.